Allora la challenge si chiama... SPACCHETAMENTO Giocheremo la partita Inter-Barcellona io quelli apro quelli tre Nago non è nè italiano, nè spagnolo, nè dell'Inter, nè del Barcellona ma so che hanno due a testa quelli italiani, c'è il più Sligo, il primo c'è il più Sligo questi sono più belli mi sembra l'Anda no, quella è la Francia Bingo qui ci sono tutti i peli qui se c'è il PSG guarda su Spans vediamo chi fa punto Spagna di nuovo bene se vanno non è del Barcellona quindi un punto per Niki si su Spans su Spans un punto un punto un punto un punto un punto Sansone dell'Italia un punto per Cree se trovi un giocatore dell'Inter prendi due punti eh ma non c'è nessuno dell'Inter non esce mai non esce Vessino non so Lautaro un cacchio Niki dai veloce scegli il tuo pacchetto Niki ha preso io sono pronta per dare un punto a Niki ma non ho detto dai questo chi è Germania Hazard mamma mia ho trovato Hazard questo deve essere forte questo deve essere forte si che è forte dai dai viamo avanti allenatore spagnolo un punto per Niki ma dai vince Niki ma poi ho vinto su Spans questo è buono questo è buono ancora è viola guarda qui ah e chi è questo Zahaoui cosa è Grecia mi sembra aspettate la sfida Inter-Barcelona finisce qui qual è il punteggio finale? se siete stati attenti alla challenge scrivete in un commento il risultato corretto per guardare il video completo e scoprire il vero vincitore della challenge clicca qui oppure nel link in descrizione se anche tu ami fare festa ami lo sport ami videogiochi continua a seguire le nostre avventure sui nostri canali vi lascio il link in descrizione un arrivederci da Playmoito Cricri JTV e Niki Toys